Voglio approfondire il concetto di nuovo paradigma cercando di essere semplice, se riesco. Uno degli aspetti che potremmo considerare fondante del nuovo paradigma è considerare la coscienza come un dato che pervade ogni cosa. Allora, premetto che ci sono Nobel, ci sono scienziati, ci sono fisici, ci sono filosofi, ci sono biologi. Insomma, esiste un mondo di studiosi, primo tra tutti Ahmed Goswami, che hanno scritto, scrivono e sostengono il concetto di coscienza che pervade ogni cosa. Pensiamo un po' alla storia, fino a prima della scienza. Nessuno metteva in dubbio che la coscienza pervadesse ogni cosa. Poi è arrivata la scienza che giustamente ha riconosciuto che in questa concezione c'era un pensiero magico, superstizioso, mitologico e quindi ha proposto un metodo razionale di misurazione. Ha messo da parte la coscienza il cosiddetto problema difficile e ha incominciato a studiare il misurabile, la materia. Come sappiamo siamo giunti fino a qui, enormi risultati, ma a poco poco crescendo c'è stato uno squilibrio perché se io metto da parte una delle due componenti, materia, coscienza, metto da parte la coscienza, crea uno squilibrio, questo è evidente ad ogni scolaretto, ad ogni bambino. Quindi, signori scienziati, abbiamo creato uno squilibrio. Ora, diversi scienziati, e dicevo, dall'inizio del Novecento in poi, stanno operando e sostenendo il fatto che bisogna introdurre la coscienza, materia e coscienza sono uno, non sono separabili. La notizia, la bella notizia, è che adesso è a disposizione un pensiero sovra-razionale, in grado di lavorare sulla coscienza, non più con un pensiero metodologico superstizioso, che devi credere, piuttosto che questo è il mito, ma che ha strumenti scientifici, cioè in grado di garantire una validità alle sue affermazioni legate alla coscienza. Questo in realtà è il vero conflitto attuale. Coloro pochi che stanno portando avanti la scienza della coscienza, l'esigenza e la necessità di rintrodurre la coscienza nella materia, non possono essere d'accordo con la linea tenuta dalle istituzioni, dal mainstream. Questa è la vera questione, che viene non a caso sottagiuta, perché prenderla in considerazione richiede di cambiare la propria mente, richiede un cambiamento radicale nel nostro modo di guardare il mondo. Questo è quello che sta avvenendo, che lo vogliate o no. Proviamo a immaginare, parafravasando Woody Allen, se tu non sai andare in bicicletta, non puoi fare finta di andarci, ma se tu sai andare in bicicletta, puoi fare finta di cadere. Ora, andare in bicicletta è un sistema più complesso che non andarci. Cogliere la coscienza nelle cose è uno sguardo più complesso che non coglierlo. Per cui ci vorrebbe un po' di umiltà di fronte a chi ci ricorda che la coscienza è immanente ad ogni cosa e ci dice, vuoi vedere come si fa? Vieni. Se vuoi conoscere questo, fai quello. Dicevamo, questa è scienza e te lo dimostro. Guarda nel telescopio dell'esperienza interiore. Guarda nel telescopio dell'ascolto, del silenzio, del vuoto, del modo e vedrai che la terra gira intorno al sole e vedrai che la coscienza è immanente alla materia e comprenderai perché mai qualcuno all'ardire di dire così non va, signori, fermatevi, così non va.